no 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 adesso glielo dai tutto a gnomo dai e ne ha pianino gnomo pianino aspetta mollalo però e ne ha io lo so pianino dai dallo tu non in bocca però ma glielo dai a gnomo dai dallo a gnomo dai dallo a gnomo no perché poi lo metti in bocca dallo a gnomo dallo a gnomo dai dallo a gnomo vieni guarda dai guarda cosa facciamo bravo bravo ancora uno ancora uno ma che parte elea sono finiti sono finiti non ci sono più più non ci sono più 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 bravo bravo grazie a tutti